Su Twitter Drew McIntyre ha comunicato il suo forfè per la prossima puntata di SmackDown, là dove avrebbe dovuto fare squadra con Scimus per combattere contro i campioni tag team. Il match comunque non è stato cancellato, semplicemente il corazziere scozzese sarà sostituito da Butch. Drew nel messaggio ha aggiunto che non ci sarà perché i medici WWE non gli hanno dato il via libera per combattere, però non ha specificato che tipo di infortunio lo stia trattenendo in panchina. A solo aggiunto non mi piace mancare agli show per cui sono stato pubblicizzato, ma vi garantisco che tornerò presto.